Del 22 settembre 1968, quando il padre Mariano si era già allontanato dalla cella numero 4 ed io vi ero entrato, padre Pio, per mezzo del citofono, mi chiamò nella sua stanza. Era a letto, coricato sul fianco destro, mi domandò soltanto l'ora segnata dalla sveglia posta sul suo comodino. Dai suoi occhi arrossati asciugai qualche piccola lacrima e ritornai nella stanza numero 4 per mettermi in ascolto presso il citofono sempre acceso. Il padre mi chiamò ancora per altre cinque o sei volte, fino alla mezzanotte, ed aveva sempre gli occhi rossi di pianto, ma di un pianto dolce, sereno. A mezzanotte, come un bambino pauroso, mi supplicò «Resta con me, figlio mio!» e cominciò a chiedermi con molta frequenza l'orario. Mi guardava con occhi pieni di implorazione, stringendomi forte le mani. Poi, come se si fosse dimenticato dell'orario, richiestomi in continuazione, mi domandò «Waio, ha ditta a messa?» Risposi sorridendo «Padre spirituale, è troppo presto adesso per la messa!» Ed egli replicò «Beh, stamattina la dirai per me, ed io, ma ogni mattina, la dico secondo le sue intenzioni». Successivamente volle confessarsi e, terminata la sua sacramentale confessione, disse «Eh, figlio mio, se oggi il Signore mi chiama, chiedi perdono per me ai confratelli di tutti i fastidi che ho dato e chiedi ai confratelli e ai figli spirituali una preghiera per l'anima mia». Risposi «Padre spirituale, io sono sicuro che il Signore la farà ancora vivere a lungo, ma se dovesse aver ragione lei, posso chiederle un'ultima benedizione per i confratelli, per tutti i suoi figli spirituali e i suoi ammalati?» E lui «Sì, sì, che benedico tutti, chiedi anzi al Superiore che dia lui per me questa ultima benedizione». E a Pia, e Toruccio, i nipoti, e famiglie, e a Sor Pia, cosa dico? «Essi sanno quanto li ho amati, mi ha risposto scoppiando in lacrime, li benedico tutti, li benedico tutti». Infine mi ha chiesto di rinnovare l'atto della professione religiosa. Era l'una, quando mi ha chiesto «Senti, figlio mio, io qui a letto non respiro bene, lasciami alzare, sulla sedia respirerò meglio». L'una, le due, le tre, erano di solito gli orari in cui soleva alzarsi per prepararsi alla Santa Messa. E, prima di sedersi sulla poltrona, soleva fare quattro passi per il corridoio. Quella notte notai com'ia grande meraviglia, che camminava diritto e spedito, come un giovane, tanto che non vi era bisogno di sostenerlo. Giunto all'uscio della sua cella, disse «Andiamo un po' sul terrazzino». Lo seguì, tenendogli la mano sotto il braccio. Egli stesso accese la luce e, arrivato vicino alla poltrona, si sedette e guardò in giro per il terrazzo, curiosando. Sembrava che con gli occhi cercasse qualcosa. Dopo cinque minuti, volle tornare nella cella. Cercai di sollevarlo, ma mi disse «Non ce la faccio». Infatti si era appesantito. «Padre spirituale, non si preoccupi», gli dissi incoraggiandolo e prendendo subito la sedia a rotelle, che era a due passi. Per le ascelle lo sollevai dalla poltrona e lo posi a sedere sulla sedia. Egli stesso sollevò i piedi da terra e li poggiò sul predellino. Nella cella, quando li ebbi adagiato sulla poltrona, egli, indicandomi con la mano sinistra e con lo sguardo la sedia a rotelle, mi disse «Portala fuori». Rientrato nella cella, notai che il padre cominciava ad impallidire. Sulla fronte aveva un sudore freddo. Mi spaventai, però, quando vidi che le sue labbra cominciavano a diventare livide. ripeteva continuamente «Gesù, Maria, con voce sempre più debole». Mi mossi per andare a chiamare un confratello, ma egli mi fermò dicendomi «Non svegliare nessuno». Io mi avviai ugualmente e correndo mi era allontanato di pochi passi dalla sua cella quando mi richiamò ancora, ed io, pensando che mi richiamasse per dirmi la stessa cosa, tornai indietro. «Ma quando mi senti ripetere, non chiamare nessuno», gli risposi con atto di implorazione. «Padre spirituale, adesso mi lasci fare». «E di corsa mi avviai verso la cella di padre Mariano, ma vedendo aperto l'uscio di fra Guglielmo, entrai, accesi la luce e lo scossi. Padre Pio, sta male!» In un momento fra Guglielmo raggiunse la cella del padre ed io corsi a telefonare al dottor Sala. Questi giunse per fargli un'iniezione. «Quando tutto fu pronto, fra Guglielmo ed io cercamo di sollevarlo, ma non riuscendovi dovemmo adagiarlo sul letto». Il dottore fece l'iniezione e poi ci aiutò ad adagiarlo sulla poltrona, mentre il padre ripeteva con voce sempre più fievole e con il movimento delle labbra sempre più impercettibile «Gesù, Maria». Chiamati da me sono arrivati subito il padre guardiano, il padre Mariano ed altri confratelli, mentre chiamati telefonicamente dal dottor Sala cominciavano ad arrivare l'uno dopo l'altro Mario Pennelli, nipote di Padre Pio, il direttore sanitario della casa sollievo dottor Gusso e il dottor Giovanni Scarale. Mentre i medici davano l'ossigeno, prima con la cannula e poi con la maschera, il padre Paolo da San Giovanni Rotondo amministrava al padre spirituale il sacramento degli infermi e gli altri confratelli, incinocchiati all'intorno, pregavano. Alle due e trenta circa, dolcemente chinò la testa sul petto. E' raspirato. San Giovanni Rotondo, 29 settembre 1968 In fede, padre Pellegrino Funicelli